Ciao, io sono Vittoria e sono ormai al nono mese di gravidanza. In questo periodo è veramente difficile riposare, trovare una posizione comoda, perché mi giro di qua, mi giro di là, non riesco mai a trovare una posizione che sia comoda, mi fa male la schiena, mi fa male, mi pesa il pancione se sto di lato, e quindi è veramente una sfida riuscire a svegliarsi la mattina belle riposate. Una cosa però che mi sta aiutando veramente tanto è il mio super cuscino Kohala Hux, che è super gigante, per un pancione super gigante, che mi sta aiutando tantissimo a dormire veramente bene, a dormire, mi sta dando supporto. E una cosa che mi piace tantissimo è che Kohala Hux è un cuscino multifunzione, quindi è un cuscino che poi io andrò a riutilizzare anche una volta nato il mio bambino, perché è perfetto, è proprio stato studiato appositamente per essere utilizzato, sia per l'allattamento, come straietta, come riduttore per il lettino, però ora vi faccio vedere subito come lo utilizzo io ora, in questo ultimo mese di gravidanza. Ciao! 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 Ciao!